Sono solo 3 su 5, pari al 61,9%, le scuole italiane che hanno aderito al programma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, scuole che promuovono salute. E tra queste il 25% circa, nonostante la formale adesione, non possiede o non è a conoscenza di un piano dedicato al programma stesso. Questo quanto emerge dal report sull'attuazione in Italia del programma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che mira a rendere la scuola un luogo che sostiene attivamente la salute e il benessere degli studenti. Alla ricerca hanno partecipato 493 scuole italiane provenienti da 20 regioni e 101 province, un campione rappresentativo a livello nazionale. Delle 493 scuole rispondenti, il 51,7% sono istituti comprensivi, il 40,6% scuole secondarie di secondo grado, il 4,7% direzioni didattiche e il 3% scuole secondarie di primo grado.